Dunque effettivamente il 1789, quindi siamo partiti dal 1989, adesso retrocediamo di esattamente 200 anni, il 1789 fu essenzialmente l'anno in cui al di là del giudizio che singolarmente si può dare, che è poco interessante in questa sede, il 1789 segna il cominciamento del nuovo conflitto di classe, della nuova composizione di classe che è quella che vede da quel momento la conflittualità borghesia-proletariato che essenzialmente seguita fino al 1968 e poi al 1989. Io leggo nei miei testi il 1968 e il 1989 essenzialmente come due rivoluzioni colorate, si direbbe oggi, come due momenti di stabilizzazione e di intensificazione del rapporto di forza capitalistico e non come trionfo di forze che a vario titolo avrebbero cercato di rovesciarlo. Dal 1789 al 1989 esce di scena l'aristocrazia in effetti che è la classe sconfitta, col 1989 rientra in scena l'aristocrazia, l'aristocrazia di tipo finanziario però, tipico della nuova classe dominante, è composta da speculatori finanziari, da globocrati senza coscienza infelice, da poliorgeti della mondializzazione necessaria e vissuta come ineludibile. Il tratto più specifico di questa classe, ed è per questo che la definisco aristocrazia, non certo perché sia composta da oi aristoi, i migliori, è il fatto che anch'essa, aristocrazia finanziaria come la vecchia aristocrazia di tipo ancien regime, è una classe che non vive del proprio lavoro ma vive di rendita, vive di rendita, segnatamente di rendita finanziaria. Oggi la classe dominante non vive del lavoro, non è composta da operosi imprenditori piccolo borghesi, delle Brianze o del calzaturiero marchigiano, è composta essenzialmente da uno sparuto numero di turbo capitalisti che vivono di rendita, sfruttando il lavoro altrui o semplicemente tramite scogitazioni finanziarie. La cosiddetta crisi del 2007 è essenzialmente non una crisi ma un'offensiva che questa classe di parassiti, bancocrati ha gestito contro le classi medie lavoratrici d'oltreoceano, se ne ha avuta poi una eco anche qui in Europa naturalmente, il bail-in di cui si parlò in Italia a un certo punto era una eco di tutto questo. Ecco, quindi è un'aristocrazia finanziaria che vive di rendita finanziaria. Il voto del 4 marzo che tu hai evocato, dal mio punto di vista, segnala come ci sia stata una presa di coscienza da parte del servo nazionale popolare ed essenzialmente sono saltati i piani programmati dell'elite aristocratico finanziaria di cui dicevamo. Il voto del 4 marzo comunque lo si voglia giudicare, e a me non interessa svolgere un giudizio tipo assiologico, cioè dire se sia stato un voto buono o cattivo, mi interessa svolgere un'analisi filosofico-politica. Il voto del 4 marzo è stata una grandiosa protesta del basso contro il sistema dell'aristocrazia finanziaria, i cui rappresentanti politici evidentemente erano quelli che celebravano quotidianamente vuoi con le omelie domenicali all'Eugenio Scalfari, vuoi con programmi politici le cui linee fondamentali erano dettate direttamente da Bruxelles e dagli eurocrati senza cuore di quell'area, delle fredde brume del nord d'oltre Alpe, essenzialmente erano quelli della linea politica del più Europa, più libero mercato, più globalizzazione, che sono stati sconfitti dal messaggio esattamente opposto, perché al di là di quello che si possa e si voglia dire delle forze politiche che hanno trionfato il 4 marzo ed è tutto evidente che esse, almeno a livello di rappresentazione, non incarnavano la direttrice esattamente opposta rispetto a queste tendenze, ed è tutto evidente, meno Europa, meno globalizzazione, meno libero mercato e per converso in maniera sinergica più confini nazionali, più difesa del lavoro, più difesa delle classi nazionali popolari e così via. Questo è stato nell'essenziale, a mio giudizio, il voto del 4 marzo, inteso come sentire, come immaginario di chi ha votato. Ecco, credo che questo sia stato. Da questo punto di vista l'Italia post 4 marzo costituisce ad oggi, credo, il più interessante laboratorio politico d'Europa. Per la prima volta non ha vinto in un'elezione la sinistra o la destra, come era stato fino a un certo punto e come confusionari e pittoreschi interpreti della politica hanno cercato ancora di dire all'indomani del 4 marzo, chiedendosi se avesse vinto più il centrodestra o più il centrosinistra. È evidente che ha vinto il basso contro l'alto, il popolo contro l'elite, il servo nazionale popolare contro il signore global elitario. Questa è stata l'analisi, a mio giudizio, che poteva fare chiarezza su quello che è avvenuto il 4 marzo. Per cui, ripeto, al cospetto di una Germania merkeliana che continua a insistere sull'eurocentrismo assoluto, a dispetto di una Francia governata da un personaggio che è stato prodotto in vitro dall'elite Rothschild turbofinanziaria, al dispetto di una Grecia a cui pure occorre dare piena solidarietà e pieno rispetto che è stata travolta spietatamente dagli eurocrati di Bruxelles, si è riuscito in quello in cui non riuscirono in precedenza, ossia a spezzare le reni della Grecia. Sono riusciti gli eurocrati non con i carri armati e con i mitra, bensì con la Troica, lo spread, i ricatti del debito come moderno sistema di schiavitù e così via. L'Italia è l'unico blocco, diciamo, europeo in cui ha trionfato una visione che è quella che ha letteralmente sparigliato le carte. Per questo quotidianamente vi erano i mercati innervositi, per questo quotidianamente si paventava e si paventa tuttora il colpo di Stato, vuoi alla maniera finanziaria di quello gestito dalla giunta militare economica di Mario Monti del 2011, vuoi quello sul modello giudiziario di Mani Pulite del 92, ci sono già stati dei procedimenti della magistratura anche in questo senso recentemente, essenzialmente si sta preparando, credo, un tentativo da parte dell'aristocrazia finanziaria di reagire scompostamente rispetto alle elezioni del marzo del 2018. L'altra via percorribile è quella della rivoluzione colorata, ossia il tentativo di riottenere il consenso perduto del popolo di modo che avvenga in qualche modo una rivoluzione gestita dall'alto ma con una parvenza di legittimità nazionale popolare. Se voi accendete, spero di no, le televisioni nelle prossime domeniche, io consiglio a tutti di leggere un libro, sempre Platone, Agostino, Tommaso d'Aquino, ma se vi capitasse di accendere la televisione nelle prossime domeniche in quel programma che può con diritto considerarsi la testa d'ariete del turbomondialismo in Italia che è quello di Fabio Fazio, in cui il garbato sorriso si rivolge ovunque ma l'attenzione precipua è rivolta ai desiderata della classe dominante, sia chiaro, troverete la lezioncina di Cottarelli, l'euroinomane tra i più impenitenti Cottarelli che dirà cosa bisogna fare, come bisogna tenere i conti in ordine, cioè agire secondo le volontà dei mercati e essenzialmente si dirà che è l'unica salvezza rispetto a un'Italia ormai alla deriva populista, xenofoba, rosso-bruna, nazionalista, ossia passerà in qualche modo il messaggio per cui nulla salus extra cottarellim, essenzialmente, bisognerà prepararsi a trovare in lui l'unica salvezza, già all'indomani del voto del 4 marzo, poi verso giugno ci fu un tentativo mal gestito e fortunatamente sventato di un colpo di Stato teso a sostituire le volontà nazionali popolari con l'uomo dei mercati. Ecco, tutto questo per dire che piaccia oppure no, non è importante in questa sede discutere di questo, ma sicuramente l'elezione del 4 marzo ha rovesciato i piani della classe dominante finanziaria, questo è del tutto evidente ed è questo l'aspetto che più interessa, credo. Nel riquadro che...